E bentornati carissimi dici, bentornati per questo nuovo video, come vedete siamo sul mio desktop con me nell'angolino piccolo 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 perché non serve tanto insomma che vediate me ma piuttosto che vediate il capture screen del mio pc perché siamo in modalità guida, guida sul nostro blog di cosa parliamo oggi, continuiamo a parlare di un argomento che avrete capito mi sta particolarmente a cuore all'interno della mia casa domotica, all'interno del mio server domotico, una delle principali applicazioni per cui io uso il notissimo personal hub home assistant di cui tantissimo ci occupiamo sul nostro blog e sul nostro canale youtube, utilizzo per il monitoraggio energetico della mia abitazione qui vado a fare una piccola premessa perché andiamo ad introdurre l'argomento del giorno argomento del giorno che vedete dal titolo voglio mostrarvi questa card veramente veramente interessante sunsync power flow che è una card veramente spettacolare, una card davveri veri nerd la vedete qui un pochino qui nella un assaggino nella copertina dell'articolo che permette di monitorare veramente con un dettaglio mai visto e la più bella che io insomma fino ad oggi abbia incontrato card di home assistant che vi permette di entrare nel dettaglio di tutto quello che avviene nella vostra abitazione nel caso insomma siate dotati anche voi di un sistema fotovoltaico monitorato da home assistant quindi andiamo a vedere con ordine che cosa ho fatto per arrivare a questa card perché magari chi guarda questo video o legge quest'articolo per la prima volta si è perso le puntate precedenti e si trova a questa roba così infernale e dice ma come ci siamo arrivati bene la prima cosa che ho fatto e qui sono rapido per non annoiare chi mi segue chi ci segue costantemente ho integrato l'inverter goodwee nel caso dell'inverter mio del mio sistema fotovoltaico ma l'importante insomma che abbiate un inverter integrabile all'interno di home assistant monitorabile connesso quelli diciamo recenti lo sono praticamente tutti però che abbia un'integrazione che permette insomma di avere a disposizione i sensori poi da inserire nella card andiamo un attimo al vecchio articolo questo della dell'integrazione goodwee vi mostro molto rapidamente ecco qui qualche immagine del mio impianto fotovoltaico come l'integrazione permetta vediamo se ci arriviamo di avere una miriade di sensori probabilmente sono qui in questa immagine qui eccola qui ora non ne sono visibili tanti ma un po' ne vedete qui pv power per esempio la potenza istantanea del fotovoltaico today pv generation quindi la produzione totale in kilowattore della giornata con il progressivo total pv generation quindi il totale del fotovoltaico generato da quando è in funzione eccetera eccetera house consumption quindi il consumo della casa in un dato momento lo stato di carica della batteria ecco qui c'è un 56 per cento ma ce ne sono tantissimi che vengono fuori dall'integrazione nel caso del mio inverter goodwee questo è importante perché poi la card che andremo a vedere oggi che veramente bella ben fatta ha bisogno dei sensori che vengono insomma dal monitoraggio perché possiate popolare le varie animazioni e le varie i vari dati e quindi andiamo avanti andiamo avanti ho fatto un accenno anche alla plancia energetica di home assistant e anche qui abbiamo rilasciato un articolo sul nostro blog lo potete andare a a leggere cliccando qui poi sono passato io nel tempo per una prima card che power flow card plus che anche molto bella ha un colpo d'occhio veramente rapido si capisce quanto stiamo producendo di solare quanto abbiamo di carica della batteria quanto stiamo prelevando poi mettendo in rete quanto sta consumando il nostro appartamento e permette addirittura di andare a inserire dei sotto carichi monitorati di consumo della nostra abitazione in questo caso c'è una bici elettrica e sembra un'auto elettrica in ricarica in questa grafica e quindi vi ho mostrato anche come ho aggiunto come ho utilizzato questa card poi nel frattempo dopo un po di tempo che avevo l'impianto fotovoltaico ho deciso anche di comprare un'auto elettrica e di dotarmi naturalmente di una wallbox wallbox che andiamo a cliccare anche qui scelta dalla wallbox che è caduta su la mia scelta è caduta su una silla prism solar che è una wallbox integrabile in home assistant tramite il protocollo mqtt eccola qui la vedete in questa fotografia l'ho scelta proprio per questo motivo e in effetti ora sono in grado di monitorare qui lo vedete sul mio assistant il consumo della wallbox all'interno proprio di queste grafiche personalizzate chiaramente ci posso fare anche tanto altro però per ora diciamo ci interessa assolutamente per questa parte qui ed è quindi ecco giunti finalmente al momento del giorno scusatemi sono stato un po' prolisso nell'introduzione ma era necessario insomma per farvi capire come siamo arrivati qui alla ricerca di nuove di nuove grafiche più complete più complesse più interessanti ho scoperto che esiste questa stupenda card una card per veri 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 nerd andiamo sul mio home assistant e ve la faccio vedere in in diretta in diretta come vedete quella che utilizzavo fino ad ora questa qui la power flow è un pochino più più spartana insomma per quanto sia facilmente leggibile forse anche più leggibile di questa che è un po imbottita e piena di dati purtroppo sono gesto girando il video di sera perché non ho altri momenti in cui girare video perché di giorno faccio un altro mestiere e quindi in questo momento vedete che i dati di produzione fotovoltaico sono praticamente assenti però vediamo insomma che nella giornata di oggi ho prodotto 15,5 kilowatt ore ecco qua la prima che vedete in alto questo dei solar è proprio un sensore del mio inverter che va a leggere questo questo valore lo va accumulare durante la giornata in base alla produzione e poi mi da in tempo reale insomma la produzione giornaliera di quella data aggiornata qui abbiamo invece le due stringhe ecco qui pv1 e pv2 e questo già è una cosa molto interessante rispetto alla all'altra card un po più semplice possiamo avere il dettaglio delle due stringhe nel caso in cui abbiate più di una stringa sul vostro inverter nel mio caso i pannelli sono divisi in due in due stringhe quindi avremo il parziale delle stringhe e qui sotto poi si unisce vedete abbiamo avremo il totale avrete anche ampere e voltaggio in uscita dalla singola stringa poi qui simula la presenza dell'inverter questo bianco che c'è al centro e qui vedete che avete l'immissione in rete o il prelievo in rete sulla sinistra sulla destra invece il consumo domestico in questo caso sta prendendo energia elettrica dalla mia batteria di accumulo che però è quasi scariche al 13 per cento la massima scarica e fino al 10 per cento non la faccio scendere oltre quindi ho ancora un 3 per cento di autonomia sono le 8 e 10 di sera tra un po rimarrò all'asciutto inizierò a prelevare dalla rete e in ogni caso vedete i 757 watt che sta consumando la media ripetazione pari pari li sta prendendo dalla batteria e la simpatica animazione fa vedere i pallini che vanno dalla batteria verso l'inverter e poi verso l'abitazione e come vedete qui ho aggiunto due sotto carichi che voglio che mi interessa analizzare perché particolarmente importanti ma ne potete aggiungere ulteriori che sono esattamente la wall box e l'aria condizionata di cui dispongo diciamo del sensore anche dell'aria condizionata e quindi mi fa vedere anche quando quanto consuma chiaramente sono dei sotto consumi del consumo totale dell'abitazione andiamo a vedere molto rapidamente come come installarla ve l'ho mostrato qui all'interno dell'articolo beh non sarà sarà necessario semplicemente andare all'interno di ax se non avete ax che sta per home assistant community store vi ho lasciato qui il link dove aveva scritto un articolo il grande luigi duchi per come installare ax sul vostro google su vostro home assistant e dopo di che basta andare nella ricerca dell'integrazione all'interno di ax nella parte front end e scrivere sun sky power flow e vi viene fuori diciamo la scheda che poi andrà installato dopo averla installata la aggiungete come una qualsiasi scheda nelle vostre nella vostra nella vostra plancio nelle vostre dashboard dove decidete insomma di andarla a mettere dopodiché avrete una serie di configurazioni da dover fare le mostriamo molto velocemente ecco qui andando qui a modifica mi metto un pochino da parte io perché sono meno interessante intanto avete il card style che è veramente diciamo una delle delle impostazioni principali ecco qui vedete che variando qui da compact a light a full avrete una organizzazione diversa della visualizzazione a me piace questa perché mette l'inverter al centro mi sembra più leggibile però credo sia una questione di abitudine anche la full insomma è bella poi avete il general general option e qui avete una serie di altre cose che potete andare a settare tra cui la larghezza la large font show solar oppure potete eliminare il solar show battery oppure potete eliminare batteri insomma andate a personalizzare quello che vi interessa inverter option inverter option potete addirittura andare a scegliere uno stile del vostro inverter e poi c'è pure il goodwill quello mio oppure c'è il solis huawei foxis solar eccetera eccetera insomma penso ci sono tutti quelli più comuni più utilizzati potete variare colori fare tutta una serie di insomma di personalizzazioni grafiche quando le fate le vedete qui direttamente nell'anteprima avete batteri option c'è tantissimo poi eventualmente ve lo andate a guardare la parte insomma più interessante più interessante o meglio quella che volevo mostrare sono le entità che poi al di là di come la vogliate andare a configurare dal punto di vista estetico però le entità gliele dovete dare perché tutti questi valori che voi vedete vengono da alcuni sensori in questo caso del mio inverter che ho integrato in precedenza all'interno di home assistant e per esempio vedete che l'entità per esempio del solare qui c'è il sensore total pv generation l'avete visto poco prima l'ho mostrato come sensore dell'integrazione del mio inverter che da questo valore sostanzialmente ecco qui dei solar e 15,6 per oggi poi la stringa pv1 stringa pv2 e qui abbiamo il sensore nel mio caso power che è power pv1 e power pv2 se volete avere anche voltaggio e amperaggio che in questo caso sono a zero ma di giorno vanno tranquillamente andate a dare nel caso il vostro in integrazione vostro inverter fornisca questi anche questi valori pv1 voltage pv2 voltage pv1 current e sarebbero gli ampere pv2 current che sarebbero gli ampere in questo caso della stringa numero 2 total pv generation questo io l'ho inserito come è però non lo vedo da nessuna parte non so probabilmente all'interno della del solar qui va abilitato da qualche parte e io non lo trovo non lo so però me lo dà come sensore ma non lo vedo applicato da nessuna parte poi eventualmente approfondite voi stessi stessa storia batteria abbiamo battery power che sarebbe in questo caso 834 cioè la potenza in questo caso che sta dando il mio la mia batteria alla mia abitazione poi abbiamo corrente che sono sempre le ampere voltaggio che sono i voltaggi la temperatura stato di carica state of charge e nel caso in cui abbiate dei batteri charge e dei batteri charge e poi ci dovrebbe essere dei batteri discharge io questi due per esempio non li ho disponibili nel mio inverter e in effetti vedete che c'è non c'è nessun sensore c'è il sensore sun sun sync un sensore fittizio che non è quello derivato dal mio inverter perché il mio inverter non legge questi dati forse potrei ricavarmeli e in effetti se vedete la carica giornaliera la scarica giornaliera merita zero perché non sono riuscito a popolare queste entità e così insomma dovete eventualmente andare a dare tutti i sensori che avete a disposizione all'interno delle varie entità fino a raggiungere il risultato che vedete più o meno insomma quello che ho raggiunto io ho anche più complesso volendo come vedete abbiamo i due carichi aggiuntivi essential load 1 ho messo la wall box quindi sì la potenza di ricarica essential load 2 ho messo aria condizionata vedete che avete avete senza load 3 e senza load 4 quindi potete aggiungere altri due carichi monitorati io probabilmente aggiungerò uno shelly em sia alla lavastoviglie che al piano cottura a induzione che ho nella cucina principale insomma dove cuciniamo quello che utilizziamo e proverò a aggiungere eventualmente anche altri due sottocarichi a monitorare per avere una visione ancora più complessa e ancora più completa bene spero insomma che vi abbia dato una buona idea di come funziona questa stupenda card veramente bella 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 come vedete la mia plancia energetica è veramente cresciuta tantissimo non so dove mettermi perché è piena piena di tutto ho inserito grafici di carica della batteria grafica della produzione del fotovoltaico le stringhe con questa belle due lancette stile conta giri e conta chilometri dell'automobile che mi danno insomma la potenza istantanea di produzione delle due stringhe del fotovoltaico e l'ultima arrivata insomma è questa stupenda card che volevo mostrare bene ragazzi vi ringrazio per aver guardato il video vi ricordo di mettere un like qualora non l'abbiate già fatto di iscrivervi qualora non l'abbiate già fatto per essere avvisate nel qualvolta il nuovo video viene caricato vi ricordo di far visita al nostro blog e avete visto che c'è quest'articolo correlato a questo video insomma mi raccomando mi raccomando seguiteci sempre vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video veramente tutto da materia un saluto da vincenzo ciao